Ciao ragazzi siamo qui allo stand LG con LG Optimus L3, più piccolino della gamma L-Style, si tratta un device di fascia super entry level, però ha un Vortex a 5-600MHz quindi non male come processore, chipset Qualcomm 722 5A, 512MHz, abbiamo anche uno schermo da 3,2", purtroppo la risoluzione QWGA quindi abbastanza bassa, infatti si aperte la bassa definizione dello schermo, tutto sommato un design molto carino, diciamo proprio L-Style, uno spessore di 11.7mm quindi è il più spesso tra i device L-Style, abbiamo a bordo Gingerbread, in versione 2.3 mi pare 0.6, adesso lo vediamo subito, si la 2.3.6, ovviamente non sappiamo se avverrà aggiornato Ice Cream Sandwich, per il resto abbiamo una fotocamera di 3 megapixel senza flash LED e non sappiamo anzi con autofocus, un device in fascia abbasta ragazzi, non è niente di speciale sinceramente, però è un device che comunque pare rispondere bene grazie all'hardware piuttosto buono che è a bordo. Quindi questa era LC Optimus L3, questo è tutto dello stand LC, al prossimo video, un saluto da Matteo di Android Geek.